Buonasera, salve Mario Caligiuri, siamo qui per portare avanti questo tour di seminari in Calabria sul progetto Nocio l'Italia che insieme con Ferrero qui in Calabria e alla CIA stiamo diffondendo sull'intero territorio calabrese. Si tratta di una grande possibilità che i nostri colleghi agricoltori sulle zone di media collina possono usufruire di questa ulteriore consulenza e divulgazione per impiantare dei nuovi noccioleti con delle varietà indicate da Ferrero. A breve tra qualche mese saremo già in condizione di costruire una nuova rete di imprese del nome Calnut, Calabria Nociolo, che metterà assieme tutti gli agricoltori e non agricoltori interessati a questo nuovo progetto di sviluppo sul nocciolo affinché potremmo di qui a breve controattualizzare con Ferrero questo nuovo progetto, questo nuovo accordo di filiera. Grazie a tutti.